Dove si vota per le elezioni dei comitess? Tutti i nostri connazionali all'estero sono chiamati a votare per le elezioni dei comitess. I comitati si trovano in tutto il mondo, 47 in Europa, 42 nelle Americhe, 10 in Asia e Oceania e 7 in Africa. A seguito delle elezioni dell'aprile 2015 nel mondo operano oggi 101 comitess elettivi a cui si devono aggiungere 5 di nomina consolare. Ho capito! I comitess sono l'Italia fuori dall'Italia!